Bene ragazzi, quest'oggi Chemical Plant Zone Allora ragazzi, io vi dico subito che mi sono rotto le palle È la settima volta a provare a registrare questo Special Stage ma non ce la faccio Quindi ho deciso da ora in poi che ho semeral degli Special Stage e li farò off camera Perché mi sarei anche rotto le palle Basta, adesso veramente basta Questo terzo Special Stage è già una cosa impossibile Io non so come sia fattibile Non posso neanche permettermi di registrarlo perché Già provare, provare e riprovare ci vorrebbe troppo Comunque sia, io magari attivo i paletti checkpoint con 50 ring al massimo Tiè ma veramente mi sono stufato, basta Non posso perdere 90 minuti della giornata per cercare di registrare un cazzo di livellino davvero Ecco, qui è dove c'era il cross Me ne fate conto l'abbiamo preso Perché poi ripeto, tutti i livelli off camera Ah, davvero basta ora eh, che cavolo Non ce la facciamo tutto e basta davvero Comunque chemical plant è davvero bellina come zona Ecco, abbiamo anche fatto una vita intanto Mi sono veramente rotto con questi Special Stage ragazzi Ma che palla è seriamente D'accordo, ci resta che proseguire per i livelli normalmente Ecco, primo stage completato Ora non ci resta che fare il secondo Salviamo Ok Adesso veramente ragazzi basta eh Con questi cazzo Anzi riprenderò, guardate Il video che vi mostrerò magari Cazzo Emerald Quelli che raccolti off camera Ok Allora, proseguiamo per questo Special Questo, questo Stade Per questo Act Che stage Guardate, gli Special Stage mi stanno proprio Annientando Ok, andiamo qui sotto per dei potenziamenti Questo è un potenziamento in vincibiltà Ma credo l'avete già capito Ecco qui Ho sempre difficoltà a risalire Non capisco mai come caspita Bisogna fare per rimbalzare più in alto Niente Ok Tutto il potenziamento in vincibiltà ho perso Un tanto Dai però piattaforma Riabbassati Ah, finalmente Qui c'è una vita Se non ricordo male Ecco Vai Perfetto Ok 50 rings Quindi volendo potremmo attivare un altro special stage Se troviamo Ecco lì c'era un paletto C'è che poi Mi sa che ho preso il tubo sbagliato Ok Vai Che andiamo alla grande Senza Special stage 3 Coglioni Ok Vai Un'altra vita E non vedo a quanto siamo Perché c'è il numero degli fps Sull'emulatore che copre Ah ecco qui Acqua normale Acqua normale Funziona come acqua normale Funziona come acqua normale Solo che però Annegate Ok Allora Questo punto è piuttosto toschino Ecco Tel si è annegato Propri Proprio un coglione Terzo in sto gioco Non c'è altro da aggiungere Aspettate ecco Queste vedete Si capovolgono Quindi avanzate con calma C'era un altro Volendo Altro special stage Avrei potuto fare Quindi 3 Chaos Emerald Mi sa che avrei potuto recuperare Bene Gli recupero tutti off camera Perché mi sono rotto Questi special stage Del cavolo Vai Ecco Ora siamo al boss Mi sa Quindi Salviamo Merda Attenzione Sono attenzione Che quelle ai lati Si Allora Questo boss Dicono che è facilissimo Beh in effetti Lo sarebbe anche Ma io sono talmente incapace Che Non ce la faccio proprio A batterlo tutto in una sola volta Bene L'abbiamo battuto Ok ragazzi Avremmo potuto recuperare 3 Chaos Emerald Ma a causa della mia pigrizia Proprio E anche della Mia scarsa voglia di fare E della mia sfortuna Non ce l'abbiamo fatta Quindi io Salvo qui E ci rivediamo Alla prossima Con Aquatic Rune Zone Ciao